Buongiorno a tutti e benvenuti al Belvedere di Monbello. Siamo qui per l'inaugurazione di questa nuova area che è stata di recente ristrutturata anche grazie ai fondi del GAL per la sentieristica. Il Belvedere è un posto simbolo qua a Monbello che negli anni ha subito alterne vicende, a volte è stato ripristinato, a volte è stato un po' abbandonato. Adesso finalmente lo abbiamo rimesso nuovo. Come dicevo, grazie ai fondi del GAL della misura 752 relativa alla sentieristica con riferimento al percorso dei castelli bruciati che è stato costituito qua nella zona, un percorso che attraversa 11 comuni della Valcerrina. Grazie a questa misura del GAL questo percorso è stato infrastrutturato e qua nello specifico sul Belvedere è stata realizzata quest'area picnic corredata anche di cartellonistica e di un punto ricarica batteria per le bici elettriche perché in questo territorio sempre più si sta sviluppando il turismo lento, il turismo delle camminate, quello dei ciclisti e quindi abbiamo fatto in modo che questa zona sia diventata adatta e accogliente per chi passa da queste parti. L'area è già pronta da più di un anno ma l'inaugurazione è stata rinviata per molto tempo a causa della pandemia, ora finalmente ci siamo ritrovati grazie anche e soprattutto alla collaborazione del Circo di Monbello che ha organizzato questo aperitivo picnic proprio per portare la gente che ormai aveva perso l'abitudine a frequentare questo posto che tra l'altro ultimamente è stato ripulito anche dai residenti vicinori che hanno reso l'area molto più bella e con una vista molto più completa quasi a 360 gradi sulle vallate circostanti.